Ad Avellino riesplode la protesta degli ex parcheggiatori. Dopo mesi senza stipendio e continui rinvii per sbloccare la loro situazione occupazionale, c'era grande attesa per l'udienza al Tarro sul ricorso dell'Atena Multiservice che aveva partecipato al bando per i parcheggi in città. Ma il Tribunale Amministrativo di Salerno si è riservato alla decisione che arriverà entro 30 giorni. Tempi a questo punto che si dilatano ulteriormente e tra di loro, in presidio fisso al Comune, monta la rabbia. Mi hanno portato all'espirazione, non ce la faccio più. Ora sono arrivato a punto che non tengo manco più i soldi per mancare i calzini. Tremmo che in marzo, sono tutto nervoso, non lo so che mi può succedere. Sono un anno e mezzo che stiamo senza soldi, un anno e mezzo, ora basta, non ce la facciamo più. Io voglio lavorare, ho portato stipendi a casa, non ce la faccio più. Una volta per sempre ce la debbano dire. Tengono il coraggio e ci risuono, ti trovate fatica, ti fanno qualsiasi cosa, però me le debbano dire. Non è che vengo qua e mi tieni calma, aspetta qua e aspetta qua, mi ho aspettato un anno e mezzo. Ma dove vado a campare? Dove vado? Pugliava la disoccupazione ma sta finendo. Sta finendo, va a calare sempre ogni mese, mi calo 3%, mi calo. Prima prendiamo una somma, ora sono arrivato a pigliare 300 euro. Non penso che una persona di 55 anni che tengo io e mi ha già pigliato per fesso da altre persone che mi viene a strunziare, perché questa è la parola strunziare, non mi calma. Per 5 persone non si riesce a trovare una soluzione, non lo so.